Hey ladies and gentlemen welcome back to another place Aspetta cos'è questo? 15.000 iscritti? What the fuck is that? Io non ne ho 15.000 Ah, ecco per chi è Ciao Anna, complimenti per i tuoi 15.000 iscritti che li sei guadagnati con il sudore e con le cotolette Non dimenticate, festeggia mi raccomando E nada, prenditi un sacco di cotolette e mangiali tutti 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 tutti, mi raccomando Good bye and bye Da da